Signore, pietà! Signore, pietà! Noi che abbiamo la partita IVA e ogni volta non sappiamo cosa sarà di noi. Cristo, pietà! Noi che siamo in balia di ogni governo che cambia, e ormai cambia più o meno due volte l'anno, come il cambio dell'armadio, e ogni governo che cambia, cambia la tassazione e si ricomincia tutto da capo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Noi che dobbiamo anticipare le tasse, ma non sappiamo quanto incasseremo. Santi Pietro e Mauro, prega per noi. Noi che non abbiamo ferie, malattia, tredicesima. Santo Stefano, prega per noi. Noi che lavoriamo per noi stessi, ma a volte ci sentiamo soltanto dei fessi. Santi Martiri di Dio, preate per noi. Noi che ci mettiamo sempre la faccia, ma veniamo trattati come una minaccia. Santi Cirillo e Metodio, preate per noi. Noi che a Roma i loro signori vogliono combattere la grande evasione, ma poi se la prendono sempre e solo con il primo che passa, il primo povero. San Francesco Saverio, prega per noi. E quindi chiediamo solo di avere una tassazione congrua, semplice, prevedibile e costante. Chiediamo di non essere in balia diventi, governi e correnti. Chiediamo di non essere considerati una minaccia, ma una risorsa. Chiediamo soltanto di lavorare e vivere in pace. Amen. Gesù, figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Gesù, figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Gesù, figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Gesù, figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Gesù, figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Gesù, figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Gesù, figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Grazie a tutti.